Sono 30 i corti in concorso provenienti dalle scuole di cinema di tutto il mondo e sono ben 20 paesi rappresentati. Questi alcuni dati della Cafoscari Short Film Festival, giunto alla sua quinta edizione. È una festa intorno al cinema, ha voluto sottolineare la direttrice artistica Roberta Novielli, ed è anche un percorso didattico importante per i ragazzi, dal catalogo al video fino all'organizzazione in loco. Quest'anno più ricco che mai e quest'anno più seguito che mai. Infatti il nostro festival che è completamente realizzato grazie al lavoro dei nostri studenti per incontrare studenti di scuole di cinema e di media di tutto il mondo, quest'anno raggiunge la cifra record di oltre 200 partecipazioni. L'interesse crescente suscitato dal festival è dato anche dal fatto che quest'anno più di metà dei registi dei corti in gara saranno presenti a Venezia, non solo. E soprattutto il cinema dei più giovani, a cui si accompagna anche un concorso per gli istituti superiore del Veneto, ha il supporto di una giuria internazionale che dovrà poi scegliere naturalmente le migliori opere. Quest'anno davvero di tutta eccezione, è completamente virata al femminile. Grande soddisfazione del prorettore alle attività e rapporti culturali. È un traguardo molto importante per il nostro Ateneo perché questo è uno degli eventi di punta, eventi culturali di punta prodotti e organizzati da Ca' Foscari, di grande successo. Le iniziative culturali dell'Ateneo Spiegato sono frutto di una lunga e consolidata esperienza di studi, ricerca nei settori artistici, letterari e audiovisivi e delle lingue e culture straniere, ma soprattutto sono occasioni di approfondimento culturale e momenti di formazione per tanti studenti. Lo Short Film Festival è un evento atteso anche dei veneziani, che ogni anno arrivano sempre più numerosi.